Allora, siamo con Luca Settimi, capitano di questo HC Roma. Oggi un tuo gol ha sbloccato questa difficile partita. Ti chiedo intanto un commento. Sapevamo che per questa è una partita difficile, anche perché non erano gli stessi che abbiamo incontrato nel Gironi del Mata. Avevano due elementi abbastanza importanti con loro. Uno lo conoscevamo bene in Copran, che ha giocato parecchie altre squadre. Abbiamo fatto parecchie volte, quindi sapevamo come fermarlo un po'. Siamo riusciti a tratti e a tratti no, però alla fine è andata bene così. Siamo riusciti a sbloccare poco prima dell'intervallo e questo fotocicamente ci ha partaggiato. Siamo in strati ancora più determinati nel terzo quarto e alla fine siamo riusciti a aumentare il divario. Soprattutto un'ottima risposta dopo la sconfitta nel derby. Esatto, la sconfitta nel derby. Fortuna ha detto che fortunatamente abbiamo perso perché non abbiamo giocato. Questo è stato l'unico lato positivo, perché vuol dire che adesso quattro partite ci rimangono. Sappiamo che possiamo dare il massimo per arrivare a giocarci la promozione insieme alla Lazio. Grazie mille, allora in bocca al lupo per la prossima. Ci vediamo qui.